Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho rifatto sto video 20 volte perché devo stare veramente attenta a quello che dico perché so che sennò può essere malinterpretato. È un argomento delicato, diciamo. Allora, in questi giorni sono venuta fuori delle polemiche perché la Juventus Women, il profilo ufficiale della Juventus Women di Twitter, ha pubblicato una foto in cui c'era Cecilia Salvai che mimava gli occhi a mandorla con un cono di allenamento in testa. Allora, nella prima parte del video voglio fare un rimprovero grande come una casa al social media manager della Juve e l'altra parte voglio, cioè, sbroccherò veramente contro l'Adidas in primi e alcuni degli altri in secondis, diciamo. Allora, rimprovero il social media manager della Juve. Social media manager della Juve, no? Allora, ragazzi, molti di voi direbbero ma cosa c'è di male nel posto lì? Non c'è niente di male se si è italiani perché noi in Italia prendiamo quel gesto lì in maniera molto goliardica, cioè, io quel gesto lì lo facevo da bambina anche con persone, appunto, di nazionalità cinese, loro ridevano e poi mi rispondevano facendo un'altra smorfia, non lo so, si tiravano sul naso, si facevano così con le orecchie, facevano così, non lo so, eravamo bambini, scherzavamo, quindi io facevo quel gesto lì e poi loro ridevano e mi rispondevano con un'altra smorfia nella faccia, perché ci prendevamo un po' in giro a vicenda, ma era tutto, appunto, ci facevamo una risata. Fatto sta che noi che siamo in Italia ovviamente la pensiamo così, perché in Italia, almeno io non ho mai sentito razzismo nei confronti dei cinesi, quindi si sa che noi non lo facciamo con cattiveria. C'è razzismo in Italia, non venite a me a dire che non c'è, però non nei confronti di persone cinesi, generalmente. Cioè, ci sono altri tipi di razzismo in Italia o di bullismo. Cos'è il problema? Il problema è che la Juventus Women non è seguita solo da italiani, è seguita anche da quelli, cioè, dalle nazionalità delle nostre giocatrici, quindi da svedesi, da gente della Danimarca, insomma, è seguita anche da altri e poi è seguita anche da americani. Gli americani non seguono la Juve per le giocatrici, seguono la Juve femminile perché in America il calcio femminile è molto seguito fin dalle scuole elementari, quindi quando la Juve, cioè una società importante come la Juve, è entrata nel mondo femminile, del calcio femminile, hanno iniziato a seguirla anche gli americani. Qual è il problema? In America, purtroppo, ragazzi, c'è un problema molto più grande di razzismo. Gli americani sono più avanti di noi in tante cose, ma non nel razzismo, perché là, ragazzi, molto spesso noi parliamo di quanti problemi abbiano con la discriminazione verso le persone di colore, ma la verità è che in America ci sono tante forme di razzismo diverse, non solo contro gente di colore, ma ci sono anche tante forme di razzismo religioso, ci sono tante forme di razzismo contro gente che ha origini magari giapponesi, coreane, cinesi o uno qualsiasi anche delle nazioni con cui l'America è stata in guerra, e sono tante, e sono tante. Quindi, diciamo, qual è il mio rimprovero al social media manager dell'IDUVE? Finché siamo noi fan, è un conto, perché siamo noi fan. Social media manager dell'IDUVE, però, deve stare attento al pubblico a cui si riferisce. Se un gesto del genere è goliardico per noi, non vuol dire che sia goliardico negli altri stati. Vi faccio un esempio. Quando sono andata in Inghilterra per due settimane, ci è stato detto come prima cosa, se non vi piace il cibo, diteglielo subito. Perché? Perché noi in Italia abbiamo la tendenza, no, se non ci piace un cibo che ci fa qualcuno, diciamo, ah sì, buonissimo, e poi altro, no, no, grazie, sono a posto. Poi magari dopo un po' viene fuori che a noi non piace, gli altri dicono, ah, però sei stata gentile, non volevi ferirmi, eh. In Inghilterra si offendono, si offendono se tu fai finta di, cioè, che ti piaccia un cibo e non ti piace. Devi dirglielo subito, loro sistemano, diciamo, la ricetta e sono a posto, sono contenti. Come ad esempio anche, no, i nostri gesti, no? Noi se facciamo così è per dare l'ok oppure per fare il gioco la ta pugno, è ok? Ehm, invece in Brasile, lo so perché ho un'amica brasiliana, questo gesto è il loro equivalente del nostro, del nostro dito medio. Questo per dire che le culture sono diverse, quindi una cosa che per noi è gogliardica, magari per loro è offensiva. Noi non siamo tenuti a saperle ste roba. Ste roba è il social media manager della USC. Detto ciò, predica a parte al social media manager, c'è anche da dire che io non accetto in alcun modo le prediche dall'Adidas. Beh, l'Adidas per risparmiare nella produzione sfrutta i bambini della Cina. Quindi io non accetto assolutamente il moralismo che fa l'Adidas. Assolutamente no, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, è come se adesso il presidente del PSG venisse a parlarmi del fatto che bisogna rispettare il fair play. Cioè, ragazzi, oppure è come quando fecero, sapete l'ultima Supercoppa che si è giocata in Arabia, che avevano fatto entrare le donne allo stadio perché volevano far vedere che loro si stanno evolvendo? Sì, le hanno fatte entrare dopo averne uccise in Avalanga perché due che lottavano per i diritti delle donne. Vabbè, però ste cose sono cose politiche, che vediamo di non parlarne troppo. Ragazzi, cioè, social media manager della Juve deve stare più attento. Questo non vuol dire che Cecilia Salvai sia razzista, assolutamente. Cecilia Salvai e anche le altre ragazze della Juventus Women sono veramente delle persone fantastiche. Non le conosco di persona, ma si vede. Si vede dal video degli allenamenti, da come si pongono verso i tifosi che le sostengono. Cecilia Salvai non è razzista, non lo è mai stata. Gli insulti che stanno arrivando a suo marito sono intollerabili, veramente. Però allo stesso tempo, social media manager della Juve. Cioè, per una cosa che fai bene, bene ne fai altre due di sbagliate, porco Giuga. Vabbè. Questo, ragazzi, questo video, diciamo, è un invito a spronarvi, a pensare a perché certa gente la prenda come un'offesa e allo stesso tempo è un invito anche a non cadere nella trappola dell'Adidas. Perché è il moralismo dall'Adidas. Ragazzi, non lo accetto il moralismo dall'Adidas, che caspita. Vabbè, è come se Ceferin adesso ricominciasse a parlare di calcio del popolo. A proposito, qualcuno l'ha visto Ceferin da quando abbiamo vinto gli europei. Io no. Vabbè. Ciao, ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve. Io non so cosa dire, veramente. Va. Ciao, grazie.